Si intitola Le colazioni filosofiche, l'evento ideato da Gommalacca Teatro. Si tratta di un appuntamento domenicale con la filosofia e la cultura. Il tema di quest'anno sarà la geografia del racconto, l'uomo, la contemporaneità e il paesaggio urbano. Si discuterà di come il cambiamento del territorio urbano possa determinare una metamorfosi delle capacità dell'individuo di percepire un luogo e di relazionarsi ad altri simili. Giunte alla terza edizione, le colazioni cominceranno con cadenza mensile a gennaio 2017 e avranno relatori sempre diversi. Il 15 gennaio si terrà il primo incontro alle ore 10.30 nella sede dell'Uplatz Spazio Civico e Teatrale in Via Tirreno 49 a Potenza. Ci sarà il docente di antropologia culturale dell'Università degli Studi della Basilicata, Francesco Marano, che affronterà il tema del rione Malve nei sassi di Matera, paesaggi e comunità. Nel corso del secondo appuntamento, previsto per il 12 febbraio, si parlerà della formazione continua e dell'innovazione tecnologica con il production manager del portale MOOC Federica.eu dell'Università Partenopea Federico II, Dario De Notaris. Durante l'ultimo appuntamento, previsto per il 19 marzo, l'esperto di sviluppo urbano e direttore generale della Fondazione Matera 2019, Paolo Verri, tratterà il tema del paesaggio nella letteratura italiana del Novecento.